La valutazione complessiva del dispositivo di controllo dei flussi migratori, che non passa certamente attraverso un centro di accoglienza, un centro di transito o una struttura di identificazione, ma passa in primo luogo da tutta un'attività di controllo che è stata posta in essere già mesi fa, che ha dato, come ha suggerito, ha detto anche il Sindaco, l'usinghiera i risultati. Noi abbiamo dei numeri che ci dicono che il fenomeno si è quasi dimezzato nell'attività dei rispingimenti, cioè che noi avevamo numeri da 150 al giorno e oggi siamo nell'ordine di 50-60 persone al giorno. Poi abbiamo controlli forti, pressanti, ingesivi sulla tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia, ma questi controlli sono finalizzati soltanto ad identificare le persone, nel senso che chi è regolare è regolare, chi è irregolare è destinatario poi di provvedimenti. Ma non dimentichiamo che a legislazione vigente chi è regolare resta regolare. Ora, cosa oggi abbiamo valutato insieme all'amministrazione comunale, al prefetto di Imperia che ringrazia, al questore di Imperia che ringrazia, ai comandanti provinciali, ai carabinieri e ai guardi di finanza, e con il combattimento polizia ferroviaria e con la zona della polizia di frontiera. Cioè oggi abbiamo elaborato insieme un ulteriore dispositivo in vista proprio della stagione estiva per rafforzare questi controlli e per porre in essere una serie di iniziative, molte iniziative complesse, che devono in maniera determinante creare, provocare maggiore sicurezza, atteso che il dispositivo che è stato posto in essere già nei mesi scorsi è un dispositivo che ha dato apprezzabili, favorevoli, positivi risultati. Il fenomeno migratorio non è mai un fenomeno che esige una risposta. Il governo dei flussi migratori è un governo che va individuato attraverso una serie di misure, una serie di misure nei quali anche un centro di transito ha una sua peculiarità. Io devo ringraziare il vescovo di Ventimiglia, Mons. Suetta, per aver dato la disponibilità di un sito che dobbiamo verificare tutto in serie di una volutazione complessiva, perché altri posti non ce ne sono e quant'altro. Quindi, in attesa di tutto ciò, noi abbiamo posto in maniera determinante l'accento su questi dispositivi di controllo e di verifica, perché credo che in fin dei conti noi dobbiamo soltanto dare non solo l'impressione, ma fornire dati certi, numerici, sulle persone che risultano irregolari, non le persone che risultano irregolari, che possono essere libere di circolare nel territorio nazionale. Questo è, credo, il messaggio che deve partire, perché noi, insieme all'amministrazione comunale, abbiamo voluto porre l'accendo su tutta una serie di questioni, per le quali credo che alcune risposte positive sono state già fornite.